Lo scontro tra Massimo Bitonci e la nuova giunta continua su più fronti dopo gli attacchi reciproci con l'assessore al commercio Bressa sul China Ingros. L'ex sindaco leghista pubblica un video su Facebook che riprende un intervento della polizia Larcella davanti alla sala bingo di Via Aspetti. Anche stasera una rissa tra stagneri di fronte al bingo sono intervenute più volanti della polizia ieri sera. Stessa musica questa è la padova aperta d'ospitale che vuole la nuova amministrazione giudicate voi scrive così Bitonci che attacca Giordani che proprio tra giorni fa poco lontano aveva inaugurato la nuova sede della polizia locale di Via Aspetti.